buongiorno sale innanzitutto bentornato su music italia ciao buongiorno buongiorno a tutti voi senti a proposito d'estate estate fa rima con reggaeton tu invece hai scelto un reggaeton lento come mai io ho scelto un reggaeton lento e perché la melodia voleva essere una ballad di un reggaeton non che raccontasse anche un sentimento una trasmissione di dei sentimenti di un rapporto così a amorevole per la propria amata o per il proprio amato diciamo una lettera d'amore ecco così la definisco questa volta in lingua napoletana che mi sta particolarmente a cuore perché vivo in questa bellissima terra vivo 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 a napoli da sempre anche se io non sono nato a napoli ma sono nato a new york per caso però è una città che mi ha che mi ha regalato tanto io sono cresciuto respirando e masticando la cultura di questa terra e quindi ho deciso anche se voglio dire precedentemente avevo scritto tante cose in lingua napoletana però dedicando un solo brano questa volta mi sono un po sbizzarrito in questo nuovo progetto discografico che doveva avere una una sua una sua vita proprio in questo periodo ma per ovvi motivi dopo l'estate quindi sto anticipando piano piano poco alla volta alcune alcune mie non solo riflessioni ma sensazioni emozioni racconti un quotidiano che fotografo giorno dopo giorno questa volta naturalmente ho voluto anche contaminare la mia musica con un talento della new generation napoletan power un ragazzo un talento credo anche promettente una promessa della nuova urban lui si chiama valle lambo e gli ho scritto a quattro mani questo brano insieme certo certo ma cosa ti colpisce della della musica e di quella che la creatività di valle lambo è veramente un metodo diverso della della scrittura e anche un approccio io scrivo questo mi capita con tutte le canzoni di occuparmi della parte musicale usando sempre lo stesso metodo che ho sempre usato oggi probabilmente la new generation si esprime anche attraverso dei bit e allora è anche curioso lui si è occupato più della parte del testo anche se io avevo già bozzato gran parte della 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 storia perché questo brano tra l'altro curiosamente è nato così a fischiettando la sera eh durante una festa eh compleanno di una della figlia di un mio carissimo amico e e praticamente mi sono assentato per pochi minuti mi hanno preso pure un po per pazzo questo sta delirando e quindi io registravo col fischio col telefonino questa melodia e prima di andare via sentivo sta musichetta che mi risuonava nella mente io ho iniziato a scrivere parte del testo poi è arrivato il momento appunto se pochi giorni dopo ci siamo rinchiusi non noi italiani ma poi cittadini del mondo e e appunto ho terminato la prima la gran parte del del brano usando questo anche questo questo andamento che poi mi sono ritrovato questa ritmicamente un reggaeton lento ecco perché poi è nato tutto il resto ehm un giorno parlando col produttore di di vale lambo mi propose questo questo artista e io non lo conoscevo mi informai e mi appassionai che nel mondo della sua scrittura di di come ritmicamente scriveva e anche quello che il suo tormento nel nello scrivere cose di raccontare lo spaccato del quotidiano e mi precipitai a conoscerlo dopo lockdown e piano piano un poco alla volta abbiamo portato la nave in porto certo certo beh è molto particolare anche perché comunque viene unita quella che è la tua figura quindi un artista che comunque negli anni ha attraversato anche diversi generi musicali e diverse epoche musicali proprio legate a Napoli e anche quello che è questo nuovo movimento street urban molto forte a parte vale lambo secondo te chi può essere un artista interessante un artista che potrebbe emergere tra quelli che appunto fanno parte di questa new generation ma ci sono tanti ragazzi lo stesso vale che prossimamente uscirà con un altro album che negli anni comunque costruisce un pubblico suo ma ci sono tanti adesso in questo momento in questo settore urbano e gioiellieri che è diciamo il leader di questo momento del napoletano power un ragazzo molto talentuoso anche se devo devo sottolineare che non ha Napoli ma voglio dire in tutto il resto d'Italia noi che siamo il paese del melodramma stiamo adottando una musica che non è nostra ma che arriva dal mondo per cui noi abbiamo usato la lingua italiana in questo caso come voglio dire il movimento napoletano la lingua napoletana che si sposa molto di più per la ritmicità per la volontà del suono delle parole io ho anche mio figlio naturalmente che nasce un nuovo anche per me anche un po' così inaspettatamente curiosamente ho scoperto che mio figlio giravano intorno tanti ragazzi che hanno collaboratori ma io nella fattispecie vuoi per non invadere questa creatività ma ho dovuto poi appurare tante sfumature che mi ero perso che Francesco scrive tutto da solo scrive musica scrive testo ha delle idee molto chiare anche sulla ritmicità sugli arrangiamenti sulla linea da seguire e quindi mi ha un po' sorpreso questa cosa che Francesco mio figlio fino all'età di vent'anni lui giocava a calcio non c'entrava nulla con la musica e poi invece mi ha sbalordito perché si è fatto davanti da solo si è costruito da solo anche un percorso in teatro perché lui ha debuttato in teatro con me presentandosi con il nome nostro all'anagrafe Francesco Sorrentino e non come Francesco da Vinci in un musical che io scrissi con Alessandro Siani fortunatissimo e lui si presentò ai provini non c'ero quel giorno passò il turno a me sembrava più uno scherzo e lui si è fatto piano piano un po' come dire un percorso in teatro da solo anche se voglio dire da quando Francesco sia lui che la sorella li portavo in giro con me in teatro quindi gli ho fatto sempre vivere tutto questo fino al punto che Francesco viene scelto per interpretare un ruolo in Gomorra quindi ha interpretato due stagioni questo ruolo e poi ha iniziato con la musica a spupazzare di qua e di là a fare collaborazioni, di fatti ci sono collaborazioni, lui ha fatto una collaborazione ultimamente con Livio Cori e ne farà altre due particolari che non sto qui a dire perché non vorrei assolutamente anticipare nulla anzi mi farebbe piacere che tu più avanti facessi tu una collaborazione con lui e poi questa mia esperienza Made in Sud dove mi sono divertito tantissimo ho ospitato Francesco e Francesco ha ripreso un mio brano che io avevo scritto un po' di anni fa per una colonna sonora di un film con Raiz che tu conosci lui ha scritto il testo e Francesco praticamente ha scritto due strofe un ponte nuovo e ha preso l'inciso la canzone era molto famosa anche a Napoli e non solo a Napoli perché aveva avuto il Sud Italia veramente un'attenzione particolare in quegli anni e ho duettato con lui e questa è una canzone che è nata in tendenza è una cosa particolare che in Napoli io cammino per strada e nei negozi a palla o nelle macchine a palla ti ritrovi questa canzone pur non andando in radio ed è curioso ecco quanti social fanno tanto ci sono tanti artisti che hanno tanti follower hanno tanti ascoltatori ma non vanno in radio certo 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 ma senti ma qual è il segreto per essere credibili in tutti questi anni perché comunque da quando hai iniziato tu è cambiato praticamente tutto hai cambiato una motivazione di fruizione hai cambiato l'ascolto hai cambiato il pubblico qual è il segreto per essere comunque ancora riuscire ad avere l'attenzione del pubblico magari diverso ma comunque di un pubblico che continua a seguirti credo la verità credo la voglia di essere rappresentato in delle storie che forse chi non ha voce si sente considerato si sente vicino anche questa verità questa leggerezza questo racconto di uno spaccato di sentimenti io ho costruito un pubblico sicuramente senza fare tanta televisione senza fare tanta radio però ho costruito un pubblico passo dopo passo teatro facendo un grande investimento artistico raccontando comunque delle storie importanti delle storie vere circondandomi di grandi professionisti ho avuto l'opportunità di grandi collaborazioni di grandi autori che hanno condiviso con me da Maurizio Fabrizio a Guido Morra a Vincenzo Incenza a Pasquale Panella al grande Renato Zero insomma voglio dire con grandi duetti Ornella Manoni Gaetano Correri lo stesso Renato Zero Clementino perché poi mi sono anche aperto e affacciato con altri linguaggi e continuerò ancora a farlo forse le persone dove li coinvolgo ovvero nella casa del teatro dove mi piace spettacolarizzare la musica si sentono al loro agio io sono per molti forse la voce di quelle esperienze di quelle storie forse è per questo sai una cosa è fare tanti numeri un'altra cosa è coinvolgere un pubblico a scendere di casa al di là della temperatura al di là dell'aspetto meteorologico e convincere le persone a mettere la manina in tasca andare a un botteghino e comprare un biglietto per sé e per la famiglia quella è un'altra roba quella non c'entra la vendita dei dischi la radio i follower gli ascoltatori quella è un'altra cosa è una magia è una magia credo che sia per chi fa appunto musica qualcosa di speciale qualcosa di miracoloso e io sono un fortunato mi reputo un fortunato perché dopo tanti anni ho costruito un pubblico che mi segue dove spesso è capitato di leggere di qua e di là ho interviste varie di due sold out un sold out cinque sold out e io mi sono mi sono reso conto di quanto io sono fortunato perché perché io quando debutto con uno spettacolo mi fermo in un teatro 40 giorni in un solo teatro 40 repliche di fila è diverso certo è una cosa abbastanza grandicella certo una compagnia enorme ballerini musicisti tecnici una famiglia di 60 70 persone ma per mantenerli se non ci fosse il pubblico sarebbe veramente difficile far tutto questo senti l'ultima domanda è sempre legata a quello che è il tuo percorso perché comunque quest'anno abbiamo visto Made in Sud abbiamo ascoltato appunto Viento e questo questo nuovo singolo però negli anni comunque tu hai fatto praticamente di tutto dal disco con l'orchestra a Sanremo il terzo posto il musical con la colonna sonora dei film c'è ancora qualche aspetto artistico che vorresti esplorare qualcosa che ancora non hai fatto ma è il tuo sogno e prima o poi riuscire a realizzarlo ma ogni volta che io penso a qualcosa penso a come realizzarlo per cui per me diventa un sogno non è una cosa che dico vabbè ormai questa cosa io l'ho fatta non mi piace più rifarla no mi piace immaginare le storie mi piace collaborare mi piace scrivere cose nuove che mi suscitano comunque quell'adrenalina quella 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 carica emotiva forte di fatti quest'estate io a fatica ma con perseveranza farò di tutto per far ripartire il comparto del nostro settore infatti il 9 di agosto io riparto con un progetto diciamo concerto ma non non lo è proprio del tutto perché è un vero e proprio spettacolo e un vestito che ho costruito che ho cucito che ho costruito che ho cucito intorno a un concerto perché non mi va di sentire questa parola di strattamento sociale è proprio una cosa che a me non mi scelta poi l'arte è complicata non riesci ad accettare tutto questo parlo dell'arte in generale e allora io ho coinvolto Fatima Trotta ho coinvolto mio figlio e anche musicalmente una band di 9 musicisti una corista straordinaria tante persone che comunque per poi sostenere e mettere in scena questo spettacolo e vado con una struttura ben presa con 2000 sedie distanzate in questi posti che sono stati anche oggetto appunto negli ultimi tempi di grandissime di grandissima apprezzione di discussione anche da parte di medi io ti butto a Mondragone che è una cittadina molto molto discussa nell'ultimo periodo causa covid quindi pensavamo di aver sconfitto la fine del mondo e invece ci siamo ritrovati delle cose ancora che ci attanagliano io ho voluto fortemente ripartire con un progetto e andrò a toccare varie località proprio per dare modo a queste persone di abbassare la tensione di riprenderci il cammino della vita e l'ho chiamato l'ho intitolato questo spettacolo due passi da te bene e quindi noi ripartiamo il 9 di agosto e ripartiamo con grande entusiasmo con grande con fantasia con creatività con determinazione perfetto senti io non posso che ringraziarti per averci dedicato questo tempo buona musica buona estate e speriamo di vederci presto dal vivo per approfondire tutto questo discorso grazie grazie a te per l'ospitalità a presto